Allora siamo arrivati, qua sono un quarto alle 11, stiamo partendo per andare a fare la via del nonno. Il nonno c'è e sono io. E allora, hai lui? Allora siamo due nonni. Io non sono. Via dai. Sono vecchio ma non sono nonno. Si parte, andiamo a vedere che cosa succede.